Sì, grazie Presidente. Ma giusto per dire poche cose, ci troviamo adesso alla fine della Consigliatura. Io vorrei fare un ringraziamento all'Assessore Lemmetti per il lavoro che ha svolto in questi anni, un lavoro decisamente egregio. C'è da dire che per la prima volta durante questa Consigliatura i bilanci sono stati votati in tempo, nei tempi corretti. Nei dieci anni precedenti questo non era mai accaduto, sempre con ritardi di almeno minimo tre mesi. Alcune volte il preventivo addirittura è stato votato con 11 mesi di ritardo. Per cui questo sforzo che è stato fatto è uno sforzo decisamente enorme, che sicuramente avrà gratificato l'Assessore e l'amministrazione tutta, visto che Standard & Poor's, un'agenzia di rating, ha certificato che i conti di Roma Capitale sono passati da uno stato negativo a uno stato stabile. È stato sicuramente un lavoro enorme. Questo impegno anche in fine Consigliatura, proprio per rispettare i tempi e quant'altro, oggettivamente ci fa onore. Tutto, per carità, sarebbe stato meglio fare tutto prima, però la mole di lavoro oggettivamente è stata molto elevata, per cui era solo per fare un ringraziamento al grande lavoro che è stato fatto e augurare buona campagna elettorale a tutti. Grazie.